Dottor Rossi, dottor Rossi, com'è agirandoli da questo affalto? So solo che agiremo con coerenza e responsabilità di questi nostri cittadini. Ora devo andare, mi scuso. Grazie. Pronto? Chi? Ok, qui, lo faccio passare. Oh, dottor Rossi, quale non vuole piacere? Come va? Bene, grazie. Senta, a proposito di quell'appalto di cui avevamo parlato, io avrei una proposta per lei. Se lei farà, come dico io, la strada per lei sarà facile. Perfetto. Tanto a me della coerenza e della sincerità non mi interessa nulla, mi interessa questa propria. Taggio a decisione. Oh, dottor Palmieri, lo scuola un buon vento. Mi piace, a porti. Vai, grazie. Come va? Bene, senta. A proposito di quell'appalto, io avrei delle proposte per lei e deve solo assicurarsi di fare quello che dirò io. Mi dispiace. Mi dispiace perché io sono corrente con le mie decisioni e onesto con i miei cittadini, dottor Palmieri. E vale la pena. Certo, perché la mia realtà non ha un prezzo. E la tua realtà ha un prezzo. E la tua realtà non ha un prezzo. E la tua realtà non ha un prezzo. E la tua realtà non ha un prezzo. Grazie.